Ben ritrovati al NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che fino al 10 luglio a Silea, in via Alzaia, sul Sile, a Treviso, ci sarà Restera & Fest, festa del pesce azzurro. A pochi passi dalle chiuse sul Sile è un grande evento in un contesto incantevole, con tanto intrattenimento per bambini e naturalmente con la musica, assaporando anche dei piatti di pesce azzurro gustosi e di qualità, frutto dell'esperienza di Sergio Albertini, che ha appositamente creato menù speciali ad hoc. Estate, gusto e splendidi paesaggi si uniscono per regalare così serate indimenticabili. Restera & Fest fino al 10 luglio a Silea, non mancate. Nel 1996 nacque Dolly, il primo mammifero clonato. Il primo essere vivente è nato grazie alla scienza e all'ingegno umano. La pecora Dolly è entrata nella storia. L'esperimento condotto nei laboratori di Edimburgo è stato coordinato da un team di scienziati. Dopo due tentativi falliti, sempre con delle pecore, il test è stato ritentato utilizzando la cellula somatica di una pecora di 6 anni ed è andato a buon fine. L'animale però è deceduto nel 2003 per via di un'infezione polmonare. Il suo successo però ha aperto nuove clonazioni di altri animali, finalizzate in parte alla conservazione di specie estinte, in parte per riprodurre organi potenzialmente compatibili con il trapianto in esseri umani. Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. Confucio Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere l'uniforme dei gondolieri. In molte parti, come la maglia, righe o la camicia alla marinara, si possono intravedere in maniera evidente le analogie con l'uniforme della marina militare. Il tipico vestito da gondoliere consiste in scarpe nere, pantalone nero, maglia a righe orizzontali nere e bianche, alle volte rosse e bianche e un cappello di paglia con nastrino nero o rosso. L'uniforme, il berretto, la postura durante la voga, i gondolieri veneziani sono diventati negli anni un'icona riconosciuta in tutto il mondo. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie. Grazie.